La Commissione Cultura, Spettacolo e Sport si è insediata quest'oggi, largamente partecipata, io di questo sono molto contenta. Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari era certamente una scommessa, ci auguriamo sia una scommessa che porti buoni frutti, buoni risultati. Nasce fondamentalmente per avvicinare sempre di più l'Avvocato nella sua funzione sociale, costituzionalmente sancita, garantita, ad uno dei grandi settori poi di capacità civica che appunto deve avere. Gli obiettivi finali della Commissione è difficile individuarli sin da subito, il metodo di lavoro è assolutamente partecipato, è uno strumento, un grande contenitore all'interno del quale certamente procederemo con finalità sia formativa, ampliando l'ambito delle competenze dell'Avvocatura e degli Avvocati nello specifico che vorranno seguirci, ma anche tentando una prodezza che è quella di portare respiro, respiro dal punto di vista culturale all'interno della votatura di Bari e l'Ensio.